Ancora una volta, ciao ragazzi, benvenuti su Minecraft, sono qui insieme a un po' di gente, un po' di amici per presentarvi una mappa particolare dove bisogna giocare a guardia e ladri in questa prigione. Io sono la guardia, i ladri sono qua, abbiamo Rob, poi Biskit, poi abbiamo Vood and Mavio del cazzo e Nemless del cazzo, i nuovi arrivati con la voce fastidiosa. Madonna, prenderete tante di quelle mazzate adesso, prigionieri di merda. Allora, io inizierei, allora, in che cosa consiste questa mappa? Si tratta di una prigione nella quale io sono la guardia e devo far fare delle attività ai miei prigionieri, però loro hanno la missione di riuscire a evadere mentre io sono distratto, diciamo, quindi, intanto vi libero e quando vi libero, pezzi di merda, voglio che voi usciate dalla cella e guardiate verso la porta della cella e stiate fermi, la vostra cella. Va bene, signor Lago. Anche voi, fuori, guardate verso la porta della cella, vi tiro una freccia, madonna, vi penetro. Rob? No, no. Ok. Ho già pensato io a Biskit. Vood and Mavio e Nemless, venite qua e avvicinatevi a questi altri due. State vicini. Sudici. Ma che capelli c'hai tu? Non fate cose... Vi spa, madonna. No, no, no. Io non c'entro niente. Non c'è un paio di sapone. Se vi sparpagliate vi bastono nel culo. Allora, marciate verso quel corridoio di là, verso quel corridoio dove c'è Biskit. Marciate, forza, andate. Camminate. Camminare, bravi. Bravi. Iniziamo con le attività. Con le attività. Fermi qua nelle docce, prima di tutto. Nelle docce, perché puzzate parecchio. Ma ci stanno le... Sì, tante saponette per terra. Dovete raccogliere una saponetta per un... Io vado a lungo, va. Questa è il mio gusto. Vai via, mette la mano. No, non tocchignatevi. Non tocchignatevi. Cosa guarda? Che schifo. Non tocchignatevi. Dovete fare la doc... Che è quello là? Sta cercando di scappare nella doccia. Mori, Sud. Eh? Vuda e Mavio. Madonna, Vuda. Che stavo a cambiare doccia. Vuda e Mavio lurido. Allora, vi siete lavati? No. Sì, signor. Qualcuno è puzza? Va bene. Allora, uscite dalle docce, forza, venite. E andiamo a fare colazione, mi sa. Mi sembra una cosa intelligente. Perché poi avrete da lavorare, lavori forzati, cose cattive. Venite, venite qua, forza, venite. Non fate scherzi. Eh? Ho sentito un rumore. Cos'è stato? Vado in cucina. Andate in cucina. Aprite le ceste e servitevi. Io mi sono accorto adesso di essere in game mode 1, quindi sistemo la cosa. Bravo, bravi. Siete contenti? Vuda e Mavio, sei contento? Sì, tantissimo. Sei contento. Sento ironia in questa tua affermazione. Vieni qua. Vuda e Mavio. Risparmi a me. Ah, ok, ci siete ancora tutti, mi fa piacere. Venite, iniziamo con le attività, venite, venite, seguitemi. Allora, io direi che come prima attività della giornata, Robbo, cosa stai facendo? No, c'era una leva. Cosa volevi, pensavi che fosse quella leva? No, pensavo che ci davano i caramelli. Ah, non volevi scappare dalla mia prigione, vero? No, no. Purtroppo qualche strana idea. Vieni, vieni, venite, di qua, per di qua, per di qua. Ah, che ci manca uno? Venite, venite. È imboscato. Venite. È imboscato nella cucina. Girate di qua, girate, girate. Bravi. Procedere. Hameless, madonna. Cosa c'è di qua? No, questa è la camera da pranzo. Andiamo ancora avanti, venite, venite. Ma che c'è? Un bastoncino? Non lo so dove stiamo andando. Come non lo so? Eh, non lo so. Mi hanno appena trasferito in questa prigione. Ah, benissimo. Ah, lei è nuovo. Sì, siamo nel cortile. Eh, madonna. Vai. Maia, lo sa che alle matricole noi facciamo gli scherzetti? No, sto per Faganese. Uè, uè, c'ho la spada, sai? Madonna, ti insegno io. Allora, vediamo un po'. Qua, mettetevi a fare esercizio, mi sembra la cosa migliore da fare. Tanto mi sembra che voi siete bravi, nessuno di voi si mette mica a scappare ancora. Strana la cosa, eh. Però, siete dei prigioni. Robo, che cazzo stai facendo? Pensi che sia così facile? Oh, aia. Qualcuno mi ha picchiato. No, non sto stai facendo. Qualcuno mi ha... Madonna, ti massacro. Schifoso di un prigioniero. Guardalo là, sta scappando. Mi è volato un uovo di mano, signor Lion. Signor Lion, signor Lion, te lo insegno a te adesso. Su, dici a merda. Vieni subito qua. No, eh. Eh. Oh. Fermi, fermi tutti. Chi è scappato? Eh. Guarda là. Ho vi... Uno è scappato. Fermi qua, voi due. Fermi qua. Riunitevi, riunitevi. I lago ci sono corte. Bastardi. Due sono scappati. Due sono scappati. No, da lì non possono scappare, signor Lion. Venite, venite. Camminate. Madonna, vi prendo abbastonate. Venite con me. Con me. Chifosi luridi. Ah, eccola sono... Andate avanti, forza. Andate avanti voi. Dobbiamo ritrovare quei due figli di puttana. Sono dei figli di puttana, vero Voodo e Mavio? Sono dei sacchi di merda. Sacchi di merda. Eccoli qui i sacchi di merda. Sono bloccati? Sì. Fanno schifo. Guardalo, guardalo. È lì, bastardo. Ma guarda, io manco lì a mano. Guarda che triste madonna, che vergogna. Siete pentiti, i prigionieri. Nameless di merda. Guarda, è lì che si nasconde. Bastardo. Guarda, c'eri anche te nel mezzo. Non è, io non è. Nameless, vai lì nel fondo. Voodo e Mavio, ti ordino di pisciarvi addosso. No, non è solo. Per punizione. Non lo finisco. Dio mio. Prigionieri di merda. Madonna, siete dei falliti. Andiamo, facciamo un'altra attività. Ma che ci staranno altre attività in sta prigione? È finita così. Venite. Madonna, io mi aspettavo che uno di voi almeno riuscisse a scappare. Fate pena. Venite, venite. Guarda, io ho fatto... Allora, facciamo... Vi do una mano. Vi do una mano. Io mi vado a prendere un caffè. E vi lascio il tempo. Vi lascio il tempo di giocare a basket qui nel... Ah, ho capito. Nel campo. Perfetto. Ho capito, ho capito. Ho trovato la via di fuga. Cosa? Hai trovato la via di fuga? No, no. Ma tu non stai prendendo... Eh, certo, ho capito. Ma se te parli mentre sono ancora qua... Eh... Ma sta... Ma il caffè è buono? Non lo stai prendendo? Eh, sì, sto andando in cucina in questo momento. Guarda, eh, se quando torno... Ah, vabbè, non ci possiamo più mica sentire, però, eh. Ah, prendo un bel caffè, attacco l'acqua qua. Ah, da buono. Sento dei... Sento dei rumori, sento. Che succede? No, ce l'hai fatto? Come fai? Oh! Togli, togli. Cosa ci fai tu qua? Signor Lion, mi scappano a cagare. No, chi ti ha dato il permesso? L'urido verme. Dove stanno i tuoi compagni? È stato... È stato metalmario. Scusa. Ma che hanno fallito di nuovo a scappare questi... Fammi vedere. Oh, strano, non ci sta più nessù. Dove cazzo? Guardali là. Da dove siete scappati i pezzi di mezzo? Secondo me non sono scappati, ho questa impressione. Oh, vedo B. Eh! Roberts! Mani in alto, un pezzo di mezzo! Che è scelto? T'ho visto! Madonna, come sei in sudicio! Ma che avete tolto la scala? Non si può mica, eh. No, no, no. Non si smontava la mappa, però. Vete dei cazzoni, eh. No! Che... Io ce l'ho fatta, ce l'ho fatta! Che è successo? Fuga! Fuga, prison break! Prison break! Do... Dove cazzo? Prison break come fuori! Mi sono scappati... Io... Io... Io ti ho toccato, io ti ho toccato. Prison break! Mi sono scappati i prigionieri! Ciao, Rylon! Ti vediamo quando il direttore della prigione ti chiama! Oh, Rob! Ciao! No! Come hai fatto? Come hai fatto? Poi, chi altro abbiamo? Come hai fatto? Dove stia? Nel cortile eravate arrivati! Luride vermi! No, bastard! E gli altri dove sono? Ma che sei scappato da solo? No, c'era anche a metà al Mario! C'era a metà al Mario! Non è vero! Già! È colpa di me da un Mario, signor Lion! È sempre colpa tua! E' qua! Ti abbiamo trovato! È nameless! È lui! No! Ah! Su, dici a merda! Ah, guarda come cerca di scappare lui! Madonna! Come ti... Cosa cazzo hai trovato qua? Return to the top! Cioè, sei tornato in prigione praticamente! No, in prigione! Complimenti! Io me ne vado per la foresta, ciao! Madonna, mi massacro! Chi è rimasto? È talmario di molto fuori! Qua c'è nameless! Ciao nameless! Povero nameless! Sei affogato! Ha fatto un fallimento! Gritto! No, 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 no! Metal Mario è morto da solo! No! Madonna, sono fantastici questi prigioni! E' la nostra unica speranza! E poi abbiamo qua un altro, un povero biscuit! Nuovo arrivato! No, Lion! Cosa ci stai? Stai tornando in prigione di tua spontanea volontà? Sì! Io stavo cercando di riconoscere! Mi puoi portare in prigione Metal Mario! Aspetti, credo! Vieni qua! Tu sei una merda! Vieni qua! No, no, no! Madonna come ti massacro! Vieni qua! L'unica puttana! È un sacco! Sono rimasto senza prigionieri! Beh, in ogni caso direi che il video è finito, sapete? Ho questa impressione! Quindi vi auguro una buona giornata! Se la giornata di oggi dovesse essere finita, mentre guardavate questo video, guardate quello domani! Lion Roberts, Nameless, è morto un'altra volta! Madonna come fatti! Metal Mavio e Biskies! Mori, Metal Mavio! Mori! Out! Ciao, nuovi arrivati! Nuovi arrivati! Madonna che voce fastidiosa che avete! Madonna mia! Ciao, nuovi arrivati!